...a interrogarci su quale sia il sentimento comune che nei passaggi più difficili ci chiede tuttavia insieme e riesce a capitalizzare le nostre energie insieme alle nostre differenze. Questo riferimento comune, sopravvissuto allo scontro e alla crisi delle ideologie, della Carta Costituzionale del 1948, quella carta che Piero Calamandrei indicava nient'altro che la resistenza messa in norme giuridiche. Pudo se, apporsi il 9 settembre del 1946, nella seconda sottocommissione, la domanda cruciale. Come faremo noi, che siamo così diversi per cultura e convinzioni, a escrivere insieme la carta di tutti gli italiani? E la risposta fu altrettanto franca, soltanto assumendo come missione comune l'antifascismo. Perché se il fascismo è il prevalere dello Stato rispetto alla persona, noi stabiliamo insieme che il nostro antifascismo prevede il prevalere della persona rispetto allo Stato. L'ordine del giorno che raccoglieva questa chiave di interpretazione passò a unanimità, cosa tutt'altro che normale durante i lavori alla Costituzione. È dunque da quel giorno che la nuova Italia ha a disposizione un fondamento repubblicano comune, una Costituzione fondata esplicitamente sulla lotta di liberazione. che occupano il popolo, guidando una minoranza attiva che combattevano in montagna e che...